Comiso, utente al suicidio, salvato dalla polizia, un 61enne prova il gesto estremo dopo essere stato lasciato dalla moglie. A Cate, sorpreso con due chili di hashish, Fernando Damanti doveva scontare quattro anni agli arresti domiciliari. Pozzallo trovato morto Nuccio Paternolo, scomparso una settimana fa, rinvenuto il cadavere sul lungomalle Pietranere. Vittoria manifestazione contro l'ex Serit in Piazza del Popolo, scarsa la partecipazione della cittadinanza. Precaricomiso continua l'avvertenza dei 47 lavoratori, martedì incontro dal prefetto. Per i trovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di If News, oggi sabato 25 maggio 2013, apertura, come avete sentito dai titoli, dedicata alla cronaca e in particolare ad un episodio che poteva trasformarsi in una tragedia. A Comiso, un uomo amminacciato di impiccarsi, pare a causa della separazione dalla moglie, ma è stato fermato in tempo dalla polizia. Sentiamo. Uomo disperato tenta il suicidio dopo essersi lasciato con la moglie. È accaduto a Comiso dove un vittoriese di 61 anni è stato salvato dal tentativo di togliersi la vita dagli uomini della polizia del posto. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione al 113, che spiegava come un uomo munito di corda minacciava dal balcone di casa di impiccarsi. Alla vista degli agenti, l'uomo, con precedenti, ha continuato ad intimare il suo folle gesto. Con un poche difficoltà, gli agenti sono riusciti a convincerlo a desistere. In preda ad un pianto adirotto, infatti, il vittoriese ha raccontato alla polizia di essere stato lasciato dalla moglie, con la quale viveva da 40 anni, da appena 4 giorni. E ancora cronaca in primo piano, condannato un cittadino acatese già arrestato per spaccio di droga. L'uomo dovrà scontare la sua pena agli arresti domiciliari. Vediamo. Sorpreso con due chili di hashish condannato, nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Acate hanno notificato a Fernando Damanti, trentenne nato a Comiso ma residente nel piccolo centro acatese, l'ordine per la carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali presso la procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, essendo stato riconosciuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e dovendo scontare la pena di 4 anni di reclusione, con il pagamento della pena pecuniaria di 18.000 euro. La condanna, divenuta definitiva il 16 marzo scorso, è conseguente all'arresto effettuato il 31 gennaio del 2012 da parte dei carabinieri di Acate, che erano riusciti a individuare il luogo in cui veniva occultata la sostanza stupefacente, ovvero in un leggero dirupo in cui insistono piante di figodindi, alberi ed erbacce, dove, nei pressi di un ammasso di pietre, era stato ricavato un cunicolo in cui Damanti aveva appoggiato all'interno di una busta di plastica l'Hashish è suddiviso in 19 panetti per un peso complessivo di circa 2 kg. Il tutto era avvenuto in contrata a Poggio Sanghetano. Nel corso dell'operazione nel portafoglio erano state rinvenute 600 euro circa in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, sottoposte a sequestro in quanto ritenuti provento dell'attività illecita. A seguito della sua condotta, Damanti era stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondareale di Ragusa, dove era rimasto fino al giugno successivo, quando era stato ammesso a affluire del beneficio degli arresti domicili. Adesso dovrà proseguire la misura, sempre in regime di detenzione domiciliare. E ci spostiamo adesso a Vittoria, dove i carabinieri hanno tratto in arresto Silvano Salerno, 31enne originario del Piemonte, accusato di aver rapinato una banca in provincia di Cuneo. L'uomo è stato rintracciato a casa della fidanzata vittoriese. Rapinò una banca a Cuneo rintracciato a Vittoria, a casa della fidanzata. Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Vittoria hanno rintracciato e tratto in arresto Silvano Salerno, nato a Carignano in provincia di Torino, 31enne, residente in provincia di Cuneo, celibe e pregiudicato per reati contro il patrimonio. L'arresto è stato eseguito in attemperanza all'Ordine per la Carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, dovendo scontare la pena residua di un anno, 5 mesi e 9 giorni di reclusione, nonché dovendo pagare una multa di 1.400 euro come condanna per una rapina a mano armata, commesso da Salerno insieme a un complice nel novembre 2010, nella filiale di Polangare in provincia di Cuneo, della Cassa di Risparmio di Savigliano, rubando una somma di 4.710 euro. In quell'occasione i militari della liquida radiomobile della compagnia di Savignano erano intervenuti nelle ricerche, riuscendo a bloccare e ad arrestare due malviventi in una zona isolata del comune, recuperando oltresì tutto il denaro rubato. Per il rintraccio del giovane e la sua conseguente assicurazione alla giustizia è stata fondamentale la collaborazione tra il comando della stazione dei carabinieri di Murello Cuneo, che aveva in carico il provvedimento esecutivo, e il comando della stazione dei carabinieri di Vittoria, che grazie alla conoscenza del territorio è riuscito in breve tempo a localizzarlo presso l'abitazione della sua fidanzata vittoriese. Ci spostiamo adesso a Pozzallo, una brutta notizia, è stato rinvenuto il corpo senza vita del ciclista pozzallese Nuccio Paternò, scomparso, ricorderete, da giovedì scorso. Accanto al cadavere è stata ritrovata anche una siringa. Triste epilogo per la vicenda del ciclista scomparso nove giorni fa a Pozzallo. Il 38enne Nuccio Paternò è stato trovato senza vita. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi della Bambinopoli del lungomare Pietrenere di Pozzallo, con accanto una siringa. La morte del pozzallese potrebbe risalire al 16 maggio scorso, data in cui i familiari ne hanno dichiarato preoccupati la scomparsa, fornendo un'identichitta ai militari per il suo riconoscimento. A occuparsi del caso i carabinieri della compagnia di Modica, che stanno cercando di risalire allo spacciatore, che avrebbe potuto fornire la sostanza stupefacente. Il caso è finito anche sul programma della RAI, chi l'ha visto. Denunciate due persone per avere percepito indebitamente la pensione di parenti già morti. La Guardia di Finanza di Modica ha scoperto le truffe e i danni dello Stato, messe in atto in due distinti casi. Sentiamo. Percepivano la pensione di un loro parente deceduto. Denunciati. Sono due le persone individuate dalla Guardia di Finanza di Modica, con l'accusa di avere truffato lo Stato. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Modica hanno chiarito che a seguito della morte di un loro congiunto, gli indagati continuavano a percepire le pensioni a questi spettanti. A seguito della morte del parente, infatti, le pensioni continuavano ad essere erogate sui conti correnti, da dove poi venivano prelevate in contanti o a mezzo carta banco, ma te dagli eredi, che avevano apposite deleghe per prelevare dai conti stessi. Nel primo caso il nipote della defunta pensionata, e il residente all'estero avrebbe prelevato in contanti attraverso vari prelievi quasi 40.000 euro dei 60.000 circa indebitamenti erogati. Nel secondo caso una donna modicana avrebbe prelevato dal conto corrente della defunta nonna per il tramite di una carta banco matti di 18.000 euro a fronte di circa 45.000 ingiustamente erogati. Le indagini compiute dai finanzieri di Modica si sono basate su un accurato sistema di indagine improntato sull'ingrocio dei dati dei trattamenti pensionistici erogati e dei soggetti defunti. Le indagini bancarie hanno poi consentito di verificare l'esistenza dei prelievi di denaro. I due sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato e in seguito all'attività della procura di Modica i conti correnti bancari sono stati posti sotto sequestro per il recupero delle somme indebitamente percepite. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria subito dopo la manifestazione che si è svolta ieri pomeriggio a Vittoria in Piazza del Popolo contro la ex Serita. Tra poco.